Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Predizioni Juventus-Roma Allora, domani è ovviamente una partita difficile ma non è impossibile Giocare contro la Roma allo Juventus Stadium è sempre difficile ma non è impossibile Praticamente domani questa può sembrare già una sfida scudetto Perché la Roma al momento è terza e noi siamo quarti Domani se vinciamo sorpassiamo la Roma e siamo terzi e loro vanno secondo me in quarti Se domani perdiamo stiamo in quinta e loro vanno in terzi mi pare L'Inter ha vinto stasera quindi dipende cosa fa il Milan ma loro rimangono terzi Quindi speriamo che domani andiamo là e facciamo una partita buona e portiamo a casa un risultato positivo Perché è solo da risultati positivi questa partita Non accetto scuse E' dalla partita contro il Napoli che stiamo facendo un percorso decente E se teniamo questo percorso decente magari possiamo vincere il campionato Anche se l'Inter vince queste partite contro la Fiorentina 2-0 Riusciremo allo scontro diretto in campionato anche se ce l'abbiamo in Coppa Italia ma nel campionato Allo Juventus Stadium vinceremo noi e cercheremo di prendersi questo decimo scudetto Comunque io penso che finisca Io penso che finisca 2-0 Juve Ma secondo me vinceremo e ce la faremo Ciao Porso Juve sempre cerchiamo di vincere perché domani è importante vincere Ciao Porso Juve E poi abbiamo dopo questa la partita contro l'Inter E poi il Napoli e poi il Porto C'è un sacco di partite che possono farci male Ma comunque ci credo Porso Juve sempre Ciao Porso Juve Buongiorno 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 Grazie a tutti.